Rieccoci in diretta con l'ultima parte del nostro approfondimento sui mercati, sugli investimenti sempre qui sulla Trading Week iniziata lunedì e che proseguirà fino a venerdì vi ricordo giovedì il main event nel pomeriggio con Manuela Donghi ma vi ricordo anche la tavola rotonda che si terrà appunto domani giovedì mattina dalle 10 alle 11 una tavola rotonda dedicata interamente a voi che ci seguite da casa un'ora 60 minuti con 4 traders, 4 professionisti che risponderanno sostanzialmente alle vostre domande quindi azioni, obbligazioni, commodity, valute, quello che volete voi saranno in 4 a rispondere alle vostre domande per 60 minuti di fila adesso però è il momento di concentrarci su un altro aspetto che è a noi caro, insomma caro anche a voi che ci seguite da casa e un aspetto che approfondiamo con il nostro prossimo ospite che è Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities, Robeco Fabiana ti vedo, eccoti qua, buonasera e grazie per essere qui con noi grazie a te Giorgia e allora ripartiamo da un approfondimento che appunto hai firmato qualche giorno fa che riguarda tre temi di investimento per il secondo semestre partendo da un presupposto e cioè una ripresa economica che probabilmente dato che di certo non c'è niente con il Covid che è ancora lì insomma tutt'altro che superato, non ancora sconfitto una ripresa economica non più tendenzialmente a V ma a U quindi una ripresa sicuramente più lenta e quindi tendenzialmente si potrebbe pensare a un prolungamento dell'atteggiamento degli investitori verso beni rifugio, verso un atteggiamento più difensivo in realtà, spieghi assieme a Robeco, ci sono buone opportunità di scelta senza scendere insomma troppo a compromessi in termini di qualità Fabiana Sì Giorgio, grazie tantissimo per l'opportunità Giacomo, ti corrego solo perché secondo me c'è stato un errore di passaggi Giacomo, comunque scusami, ti ho interrotto ci mancherebbe Guarda, ci sono tre tematiche che per noi sono importanti e saranno importanti non solo nella seconda parte di quest'anno ma in realtà saranno probabilmente le tematiche per i prossimi dieci anni Sì E una veramente scaturisce da quello che vediamo succedere nel post-coronavirus e un elemento sostanziale è in un mondo dove questa pandemia non è ancora finita quei paesi che sono in grado di superarla, di affrontarla in maniera più efficace avranno probabilmente anche i mercati azionari più solidi e tra questi paesi noi veramente guardiamo al Nord Asia, guardiamo alla Cina, guardiamo al Taiwan e guardiamo alla Corea che di gran lunga si sono dimostrate molto più effettive che non per esempio anche gli Stati Uniti nell'affrontare la pandemia L'altro elemento che al momento è chiarissimo è che c'è una grossa disparità tra il quality growth e il value e a un certo punto dovremmo avere questo cambiamento di tendenza nel mercato ma quello che noi abbiamo avuto fino adesso è stato veramente un bear market rally c'è stato un rally che è stato veramente più un rally difensivo di investitori che hanno guardato quelle società che erano più difensive in un ambiente di pandemia o che magari beneficiavano negli utili da quello che stava succedendo nelle nostre economie, pensiamo a tutti i tech giants e si sono praticamente nascosti in queste azioni a un certo punto veramente le sorprese positive finiranno lo stiamo già vedendo con gli earnings negli Stati Uniti e ci dovrà essere necessariamente una rotazione nei cyclicals adesso il timing è sempre difficile da capire però stiamo probabilmente all'inizio di quella rotazione infatti quello che stiamo facendo noi al momento nei nostri fondi è una rotazione molto graduale nei cyclicals ma quelli di più alta qualità dove pensiamo che anche se i fondamentali siano stati impattati dal coronavirus in realtà rimarranno solidi e riusciranno a cavalcare l'ultimo stage della U in maniera con successo da questi due punti veramente scaturiscono le tematiche che per noi poi ci porteranno per il resto non solo dell'anno ma nei prossimi dieci anni la prima è che la Cina fino adesso è stata considerata una allocazione periferica nei portafogli degli investitori dovrà necessariamente diventare un'allocazione core hai un paese che è la seconda economia più grande del mondo un paese che si sta aprendo agli investitori stranieri con una migliore agevolazione del trading e che allo stesso momento è sottopesato non solo dagli investitori ma anche dagli indici e a noi in particolare la Cina e soprattutto la Cina mainland quindi gli A-shares piacciono particolarmente perché è anche un mercato che rappresenta veramente il domestico cinese molto più che non il mercato di Hong Kong si dovrà, scusami Fabio se ti interrompo si dovrà in qualche modo superare forse ne hai anche accennato quella che al momento è una sorta di diffidenza nei confronti della Cina anche a livello di garanzie che i numeri che escono da che produce il paese siano effettivamente reali abbiamo tutti sotto gli occhi i titoli che pubblicano i giornali i media americani quando il PIL magari ha avuto un enorme incremento non viene scritto PIL cinese in ripresa ma viene scritto dalla Cina fanno sapere che il PIL è in ripresa questa diffidenza si può superare da parte degli investitori ma guarda secondo me si sta già superando si sta già superando non dobbiamo soltanto guardare se vuoi agli headline numbers possiamo guardare per esempio la produzione di elettricità possiamo guardare al tipo di attività che vediamo in Cina voglio dire ci sono moltissimi modi al momento in termini di dati che possiamo accedere che ci fanno capire come si sta muovendo l'economia cinese che tra l'altro non si sta muovendo in una maniera particolarmente fantastica però da un punto di vista relativo paragonato ad altri paesi al mondo in realtà si sta riprendendo molto più velocemente e penso che in realtà e tu hai speramente sei andato su un punto chiave è stata la diffidenza degli investitori sulla trasparenza dei dati cinesi dell'economia cinese che un po' ha fatto scaturire questo sottopeso per la Cina ma penso che ormai stiamo superando stiamo superando quell'impatto l'altro impatto tra l'altro che stiamo superando è se vuoi questa crisi tra gli Stati Uniti e la Cina e questo continuo attacco dagli Stati Uniti verso la Cina che due anni fa aveva scaturito una crisi nel mercato cinese se vedi ultimamente ogni volta che l'amministrazione Trump accusa la Cina di qualcosa in realtà il mercato cinese continua a fare quello che deve fare quindi penso che gli investitori siano diventati un pochino più cinici anche quando si tratta della crisi tra gli Stati Uniti e la Cina insomma stanno maturando da questo punto di vista anche a livello di scelte e di lettura la terza tendenza tornando insomma al tuo approfondimento riguarda tu anticipavi insomma se il mantra rimane follow the money e quindi se dobbiamo continuare a indebitarci allora facciamolo go green sempre tra virgolette ovviamente cioè se dobbiamo indebitarci quantomeno facciamolo in modo tale che nel futuro i nostri figli, i nostri chi verrà dopo di noi possa insomma rimanere all'interno di un ambiente di un mondo dove il clima sostanzialmente migliora e non peggiora come sta accadendo più o meno in questi tempi guarda assolutamente una delle domande che io ho avuto dai nostri clienti all'inizio del coronavirus è stata ma forse il coronavirus ci farà dimenticare della sostenibilità perché abbiamo delle esigenze più importanti al momento assolutamente no è stato il contrario in realtà io vedo il coronavirus come un mezzo che ha accelerato l'interesse da parte degli investitori ma anche dei governi e dell'opinione pubblica verso il sostenibile e le parole che tu hai appena citato non sono mie ma sono di Ursula von der Leyen il presidente della Commissione Europea che in realtà sono parole che riflettono quello che molti altri governi hanno fatto per esempio il governo canadese ha chiesto a tutte le società che prendevano dell'aiuto economico per il coronavirus dal governo di pubblicare quelle che chiamano annual environmental disclosures quindi di pubblicare il loro impatto sull'ambiente la Corea ha appena svelato un piano che chiamano il New Green Deal di 130 miliardi di dollari e una gran parte di questo riguarda il climate change è un'economia più digitale un'economia se vuoi anche più pulita e più efficiente e noi vediamo che molto di quell'aiuto economico fiscale che viene versato nell'economia al momento perché abbiamo avuto una conseguenza negativa dal coronavirus in realtà viene girato verso degli elementi di sostenibilità e quindi se devi follow the money a questo punto follow the green Per chiudere abbiamo ancora qualche istante si avvicina il momento della Fed che alle 20 pubblicherà le sue decisioni per quanto riguarda la sua politica monetaria ci si aspetta una scelta di non scegliere da parte di Jay Powell cioè tutto dovrebbe rimanere uguale alla situazione alle politiche attuali con i tassi di interesse che rimarranno stabili ma con un rafforzamento della guidance questo è la previsione e non può che essere questa secondo te Fabiana? Guarda a questo punto sì penso che staremo ancora su zero for longer e allo stesso momento quello che veramente stiamo cercando di capire è il discorso riguardo all'inflazione se ci sarà qualche parola riguardo a quello e anche un po' di discorso in riguardo a quello che sarà il forward guidance quando arriveremo a settembre che è probabilmente il mese più importante a livello di decisioni insomma quantomeno sia per la Fed sia per le altre banche centrali io intanto ringrazio Fabiana Fedeli Global Head of Fundamental Equities di Robeco per il suo intervento sicuramente molto interessante buon lavoro Fabiana grazie e a presto grazie Giacomo e allora ringraziamo anche ovviamente Robeco e Verini Associati per la disponibilità di Fabiana mercati che si avviano verso una chiusura debole DAX 12.823 punti meno 0,08% quindi è molto vicino allo zero sostanzialmente i mercati europei sono leggermente migliorati grazie al segno più di Wall Street ma anche in questo caso un segno più abbastanza timido se facciamo eccezione del Nasdaq che guadagna l'1,10% guardando il grafico daily come vedete vediamo una situazione in cui i guadagni di oggi superano i massimi della vigilia e anche per questo si va a generare un piccolo impulso rialzista se vogliamo l'SP500 a 3.244 punti il massimo di oggi ha già superato quelli della vigilia ma anche quelli di lunedì e di venerdì scorso il Dow Jones più 0,25 a 26.444 punti altri movimenti prima di chiudere e di darvi appuntamento alle 19.30 con lo speciale Fed assieme a Manuela Donghi ci sarò anch'io assieme a Gianner Gas Angelo Ciavarella e Peter Carvillo ovviamente una diretta che vi terrà compagnia fino alle 21 dicevamo il VIX 24.46 meno 3.85% abbiamo raggiunto i minimi del 23 luglio scorso ma anche quello del 21 luglio insomma c'è una resistenza piuttosto evidente a livello grafico sui 23.5 per il VIX questo su grafico su grafico daily è una resistenza che sostanzialmente tiene da febbraio 2000 e scusate supporti non resistenza siamo a fine diretta e anche per me dicevo supporti importanti sui 22 23 23.6 più o meno sostanzialmente per quanto riguarda il VIX poi petrolio dicevamo potrebbe crescere di prezzo mica tanto cresce dello 0,7% ma è sempre lì a 41.43 Brent a 43.78 più 1 e 2% natural gas più 1.19 abbiamo parlato durante la nostra tavola rotonda e sta testando una resistenza questa volta sì a 1.92 sostanzialmente ora 1956 dollari l'oncia rientra nei valori della vigilia ma tiene i massimi raggiunti appunto nella seduta di ieri anche per il prezzo dell'oro la situazione è simile dopo che è stato superato i massimi storici a 1.682 euro appunto l'oncia il rame a 2.9 dollari per libra siamo sempre sui livelli massimi sui livelli massimi che non venivano raggiunti da maggio 2019 quindi da circa 15 mesi argento 24.08 eccolo qui il valore dell'argento che insomma nella seduta la vigilia è stata la seduta diciamo più importante più volatile perché c'è stato i grandi c'è un corpo molto più spesso sostanzialmente al centro di questa candela e con volatilità sia in alto sia in basso guardando infine il mercato valutario dollar index 93.44 euro dollari 1.17 e 72 euro sterlina 0.90 e 72 più 0.15 sterlina dollaro 1.29 e 75 siamo sempre lì molto vicini a quota 1.30 dollaro yen 104.04 e oggi il minimo segnato nella seduta odierna è il più basso dal 13 marzo 2020 quindi l'epoca della risalita post covid minimo di 104.8 sterlina yen 136.31 più 0.3 per cento infine possiamo dare un'occhiata perché ne abbiamo parlato in maniera profondità anche durante la nostra tavola rotonda dedicata alle commodity bitcoin 11.171 più 2.19 non supera il record del 27 luglio scorso a 11.379 ma la criptovaluta tiene su quei livelli come non faceva dal 10 agosto 2019 quindi sostanzialmente da un anno a questa parte negli ultimi 12 mesi grazie a voi che ci avete seguito in questa sessione della Trading Week l'appuntamento è per le 19.30 nei nuovi studi con Manuela Donghi ci sarò anch'io grazie ovviamente anche alla regia e allora buon proseguimento con i nostri programmi l'appuntamento è a più tardi con la diretta delle fonti tv grazie a tutti